Questi giovani secondo te hanno speranze in questo paese ancora? Perché qui la parola è chiara, siamo disorientati. Lui è giovane, io non so a cosa veramente, adesso seriamente, a cosa andiamo incontro. Se all'abisso, ma dipende da loro. Se diventano dei giovani amorfi che pensano soltanto a imbazzarsi per una partita e poi dopo non fanno come hanno fatto in Francia, ribellarsi se non sono d'accordo, non con violenza, ma far sentire la propria voce compatta per dire io dissento di questo paura.